3, 2, 1 come c'è sto coso? scopere che ciao dolci unicorni oggi c'è Andrea e quindi se spacchetta e se magna se spacchetta, se magna cose molto sostanzionse abbiamo tre uova che secondo me sono gigantesche di Bauli sorprese per lui grandi firme e per lei grandi firme e poi abbiamo Bauli Italia's Got Talent perché c'è scritto in ogni uomo c'è il buzzer e io lo voglio e sono curioso voglio vedere come funziona allora quindi abbiamo tutti i ba ba bauli ba 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 bauli certo non sponsorizzato no perché la Bauli non ci ha mai mandato niente non si fa così ma prima vogliamo salutare un dolce unicorno vogliamo salutare Asia ciao Asia Asia mi segue ovunque ha pure preso anche una cosa mia su Vinted è bravissimo bravo bravo un bacione Asia mi raccomando se anche voi volete essere salutati cosa dovete fare dovete essere iscritti al canale lasciare un like a questo video soprattutto lasciare tanti commenti inerenti al video e anche magari scrivetemi cosa fate voi durante la giornata perché io sono molto molto curiosa se andate a danza se andate a fare qualche sport particolare io faccio lo sport del se magna io gioco a calcio ma dove? con la playstation ah ok va bene va bene è uno sport comunque no? va beh va beh allora devo dire che oggi sono veramente veramente curioso di aprire le uova anch'io anch'io perché ci sono delle belle sorprese secondo me allora facciamo una cosa iniziamo da iniziamo da taglie sgottane ok perché voglio sono curiosa di vedere questo buzz lo lascio da te ma si dai tutti da me? tutti da te allora qua c'è scritto cioccolato fondente a me piace a voi? a me si no a me no bello fondente bello cioccolato poi c'è scritto eccolo qui taglie sgottalente in ogni uovo il buzzer originale poi puoi vincere fino a due film di serie tv con now vabbè due mesi di film ma possiamo vincere now? due mesi di abbonamento a now vabbè dai allora ovviamente con tutti gli abbonamenti magari magari ce lo regalano vediamo vediamo allora apriamo sono veramente curioso oggi delle sorprese che non potete immaginare ma in base funzionerà avrà le batterie? no è già aperto e ora il banzai allora facciamo una cosa ma era sano ma poi si è aperto in un modo strano ricomponiamolo noi aiutami ma si è aperto in un modo strano si facciamo finta che sia sano vabbè bello fondente abbiamo fatto la stessa cosa come tutti volete vedere come è aperto? tre tre due uno ole che è sto scoperchia no vabbè raga no 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 ma scusa e già iniziamo malissimo ma è piccolissimo ragazzi no vabbè io no ma almeno funziona ora mi dice che ci vogliono le batterie colice ma è un portachiavi vabbè però potevano scrivere un portachiavi c'è scritto in ogni uovo il buzzer originale ragazzi ma qui c'è una grandissima presa per i cartelli cioè io vorrei vedere se l'italia's got talent no ragazzi no non si fa così se loro utilizzano questo buzzer così no per buzzare ho rotto pure il taglierino l'ho rotto per il nervoso no però allora io una cosa ok la sorpresina però qui è una grandissima presa in giro questa cosa non mi garba originale originale deve essere tanto ve lo faccio vedere io qual è un buzzer originale è questo il buzzer originale che ci ha gentilmente prestato il nostro amico cuffolo cioè io farei vedere si è rotto il vabbè ragazzi buzz originale ok vabbè sarà sensabile perché ma cos'è sta cosa aspetta voglio aprire questo io veramente sono arrabbiatissima ma non delusione il primo delusionissimo ti dai ascoltare dobbiamo parlare io e tu no non è possibile non è possibile mi aspettavo questo comunque è poco poco più piccolo ma non in miniatura scrivetelo in miniatura un portechiavi l'avrei gradito allora finiamo c'è la doppia protezione sono un po' arrabbiata eccolo qua il mitico buzzer guardate il paragone una via di mezzo ma scrivetelo non è il coso originale che è presa in giro però il suono lo fa il suono lo fa e sto coso il suono lo fa ma questo coso cioè ma non lo so ma poi si può mettere in pa... no si lo somerà pure si perché qui è qui quello lì di Riccardo guardate anzi lui ci ha messo pure le pile ah grazie di schino eh guardate vediamo il suono la differenza ragazzi comunque delusissima delusione delusione quindi questo è bocciato bocciato però bocciato per me è bocciato no niente no non assaggio manco la cioccolata è fondente come no no non mi piace non assaggio il cioccolato fondente io l'assaggio da qua non lo so il cioccolato amaro vai andiamo avanti vai faremo una bella torta andiamo avanti con grandi firme qui mi auguro che bauli forza 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 allora grandi firme rinascimento mandarina dac camomilla e poi ho visto che all'interno si possono trovare queste cose e già secondo me cioè una di queste già mi piace un sacco più altre sorprese quindi dai 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 su io in questo qua possiamo trovare tu cano fiat 500 o leone e dentro c'è o una sacca o un portachiavi questo qui a matroccia oppure un bel portachiavi delle prese per i vari telefonini comunque sono tutte marchio molto interessanti quando la bauli fa queste cose va bene con Italia's Got Talent hai toppato almeno scrivetelo fuori cioè allora è carinissimo però no è carino però non mi piace la presa in giro il buzzer originale è grande tanto vuol dire il buzzer in versione in miniatura questo è sano allora cosa troveremo attenzione che buon odore però però il famoso cioccolato superiore rinforzato al latte allora l'ho aperto pure io malissimo no ancora no ma c'è l'apertura 3 2 1 buon odore attenzione che carino per partecipare al concorso bauli vabbè ah c'è un concorso sì non so per che cosa però poi parteciperemo al concorso ma cos'è cos'è che carino il portapenne è quello che volevi tu è quello che volevi tu sì che carino che carino è un amore un piccolo portapennino della camomilla poi ci potrebbe anche entrare l'apple pencil tranquillamente è molto carino molto carino la camomilla mi piace io adoro le borse della marca camomilla cioè mi piacciono le cose della marca camomilla bella sorpresa devo dire sì mi piace mi piace bello 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 per le matite oppure per l'apple pencil mi piace mi piace questo sì cioccolata al latte questa volta al latte rinforzato superiore quella fondente buonissima è buona buona stranamente ragazzi è diversa da quelle che ho aperto finora a bauli buona buonissima no buona buonissima è diversa questa cioè quasi quasi somiglia alla kinder buonissima anche da il latte buonissima ragazzi promossa questa è promossissima buona 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 e ora andiamo ad aprire questo qua vai sono curiosa per capire ciò che troverai tu allora cominciamo a spacchettare muoviti annaccati cominciamo a spacchettare però lo possiamo utilizzare nei video sì sì dai hai finito no ma sono già aperti ragazzi è successo di tutto questo in due secondi in due secondi attenzione aiutami sì ma no ma no volevo fare banzai cos'è ridi scoperchiamo scavicchio ma non apro 3 2 1 via cos'è cos'è no allora io speravo nell'altra cosa dai vediamo ah hai trovato una torta beh io ero convintissima che tu trovassi questo lo sapevi già sì me lo immaginavo allora apriamo allora non è male cioè è carina non è male attenzione attenzione meglio questo che la sacca secondo me questo sì apriamo e c'è un bel portachiavi carino con la fiat 500 con la mattina che vorrei io e poi una torcia led carino vediamo se funziona e ci sarà il coso che devi rimuovere che stai a fare perché Andrea rompe tutto ah giusto aveva ragione Andrea eh devo togliere la portazione aveva ragione Andrea vedi uh ah è fortissimo uh funziona è fortissimo wow bella bella che carino un bel portachiavi beh bello bello allora torniamo allora è bello il buzzer però ragazzi se tu mi scrivi un portachiavi e a forma di buzzer io l'ho precomprato lo stesso se tu mi dici l'originale mi aspetto che era almeno il medio non come questo ma almeno il medio cioè non il mini però devo dire che lo useremo perché mi fa gasare le nostre video quindi vediamo come introdurlo e poi sarà una distruzione totale poi camomilla il regalo questo qua di bauli mi piace la sorpresa di bauli grandi firme molto belli ve li consigliamo anche la cioccolata è buona questa adoro mi piace io volevo il portachiavi con le prese dei telefoni però devo dire che comunque le sorpresse sono sempre belle nelle grandi firme potrebbe essere utile la cenera per aprire la porta e al buio c'è la lucina quindi tornando al discorso queste tre uova diciamo che Italia's Got Talent ci sono rimaste un po' male una mini delusione c'è stata sì c'è stata per quanto riguarda grandi firme lei e lui per me sono stra mega iper promossi la cioccolata è buonissima e quindi fateci sapere giù nei commenti quale di questi tre vi è piaciuto di più quale mi è incuriosito e soprattutto voi aspettavate che il golden buzzer e c'è il golden buzzer che il buzzer fosse così piccolo io no però dai neanch'io sinceramente mi passano il tempo noi vi mandiamo un bellissimo bacio super mega iper fuggioso vi vogliamo bere noi ci vediamo al prossimo video ciao dolci unicorni ciao tu lo sai che io ti tormenterò no dai no dai no